ciao amici oggi mettiamo una torta all'acqua al limone questa ricetta non è semplice è difficilissima ed è semplissima scusate mettiamo in una ciotola zucchero succo di mezzo al limone e acqua e mescoliamo tutto però no perché sennò schissato tutto d'aria poi mettiamo olio di semi buccia grattugiata del limone se volete rimane appiccicato non la mangiate una bussina di lievito per dolci e farina e secondo voi dopo cosa succede bravi facciamo cadere scherzavo poi ricominciamo a frullare è una ricetta velocissima senza uova senza latte senza niente dico sopra tutta la mia maestra così verrà più buono è bello buono mescolate bene amici eh praticamente è già fatta che quello mettiamo in forno poi quando riuscite mettiamo un po' di zucchero e velo ed è fatto e adesso ragazzi viene un gioco da ragazzi mettere l'impasto dentro la teglia ok in gioco da ragazzi in gioco da ragazzi è caduto tutto oh no amici scusatemi sono in gioco da ragazzi e adesso in forno amici a 180 gradi per 30 minuti e ora che la torta è pronta ci mettiamo lo scuro avvero dai l'abbiamo depilato veramente anche un po' fuori vabbè io vorrei farlo abbandonare anche fuori così è tutto dentro ecco questo ok perfetto come me l'immaginavo ed ecco amici la mia torta all'acqua adesso si assaggia davvero buona è davvero buona buonissima e guardate come sto a uffici una delizia grazie grazie